Il mondo della pittura italiana vive di molti aspetti tematici, molti aspetti contestuali, molti aspetti legati a una ricerca che è davvero eterogenea e ricca di contenuti e significati uno di questi è senza dubbio quello legato all'illustrazione, al fumetto, a quel tipo di approccio del disegno che rappresenta in Italia una delle punte più alte nella storia appunto della creatività nel dopoguerra sono davvero in Italia emersi degli illustratori, delle scuole da Bonelli in giù ma insomma è inutile raccontarle qui pezzo per pezzo perché davvero nei vari ambiti dell'illustrazione l'Italia è stato ed è ancora uno dei paesi guida a livello internazionale tutto questo ha diverse valenze anche di relazione, di scambio, di stimolo con il mondo delle arti visive propriamente dette, quindi con il mondo di una pittura che è autonoma, matura e che vive la sua autonomia piena rispetto al fumetto come elemento ispirativo e come elemento diciamo di aria comune. Fausto Gilberti è secondo me in Italia uno degli artisti che rappresenta meglio di tutti questo legame che non è un legame diretto ma è un legame sicuramente ben gestito, ben filtrato in cui alcuni aspetti diciamo dei codici proprio semantici dell'illustrazione in un certo senso tornano perché l'uso di questi fondali piatti bianchi, questo tratto estremamente sottile o marcato ma giocato su questa forza, su questo spessore del nero come unico colore quindi questa bicromia, questo gioco di opposti bianco-nero che dà vita a questo paesaggio di figure che sono il mondo di Gilberti Fausto Gilberti è un artista bresciano che somiglia in un certo senso ai suoi protagonisti lui è davvero una persona molto opacata, molto silenziosa, minuta che ama lavorare in una dimensione domestica di protezione, di silenzio e di giusta conservazione dei propri spazi e dei propri tempi ed è un artista metodico che fa questo da oltre vent'anni con grande intelligenza con grande sagacia e mi piace ricordare questi suoi bellissimi libri sui grandi artisti d'avanguardia pubblicati per Coraini la casa editrice di Mantora che da Bruno Munari in poi ha fatto davvero alcune delle più belle uscite editoriali italiane degli ultimi 30 anni Fausto Cibetti ha fatto libri su Lucio Fontana, è l'ultimo ma anche su Jackson Pollock, Keith Klein, Piero Manzoni su tutti, su alcuni dei grandi nomi del Novecento più rivoluzionario, più impattante lo ha raccontato con questi suoi disegni, queste silhouette, queste forme davvero riconoscibili sono un marchio di fabbrica, quello di Gilberti con pochissimo è riuscito a creare un vero e proprio immaginario alla Gilberti ed è riuscito a creare un mondo che è il mondo di Fausto Gilberti che immediatamente guardando un solo disegno, una sola pittura tu riesci a riconoscere a capire, a comprendere come proprio un pezzo del mondo di Fausto ed è un mondo dove i riferimenti sono dei riferimenti generazionali soprattutto generazionali, quindi legati alla musica ad esempio in maniera particolare alla musica rock sono conosciute le pitture su tela, i disegni su carta, le pitture su carta dove Fausto racconta e immagina queste chitarriste, questi chitarristi questi bassisti, questi protagonisti riconoscibili o meno riconoscibili ma che hanno proprio questa dimensione rock nel modo, nell'approccio, nell'aspetto e che ci danno proprio l'idea della fisionomia del rockettaro del punk, del post-punk, del musicista indie, del personaggio anche se in realtà disegnato, pittoricizzato con questo nero totale quindi poi senza giochi di dettaglio sul colore, su elementi sono allo stesso tempo totalmente definiti e riconoscibili quindi tu subito con la tua testa, la tua memoria vai verso quell'immaginario amato, metabolizzato di appunto di grandi gruppi, grandi musicisti che sono poi i musicisti gruppi che Fausto ha amato e ama e che ascolta da anni e che sono poi la sua passione lo stesso il cinema, ricordo il ciclo su Laura Palmer che davvero è stato un ciclo geniale dove ha giocato sui temi dell'horror, dell'immaginario linciano ma anche proprio di tutto quello che è un modo del cinema di fare appunto, di fare thriller, di fare noir, di fare horror, splatter in cui tutto questo gioco poi si mescola a sua volta con la musica rock, con l'evi metal con certe forme appunto di ricerca visiva, di ricerca grafica e tutto questo immaginario è diventato un ciclo magnifico dove c'è tutta un'idea di cinema californiano, di mondo anche di riferimenti antagonisti, generazionali, molto americani ma poi alla fine universali che in qualche modo uniscono persone molto diverse su un immaginario così simile e poi c'è un mondo di storie personali di gente incontrata, di amicizie vissute che Fausto riesce a filtrare in questo suo modello che è davvero il fatidico less is more questa capacità di giocare con elementi minimi, con segni minimi e in realtà gestire questo con un talento e con un'autonomia di stile, con una personalità che sono impressionanti e questo ci dice anche che Fausto ha quella magia che io riscontro ad esempio negli artisti giapponesi, nei grafici, nei disegnatori che provengono dal Giappone che con tratti minimi e con una calibratura del processo e del metodo riescono a raccontarci storie strabilianti che poi sono tutte nella nostra testa perché sono davvero nella loro testa Fausto è un artista, a mio parere, molto concettuale nel senso più allargato e profondo del termine cioè davvero quella capacità di lavorare sui contenuti su una parte interiore, su una parte cerebrale su una parte che devi gestire tu in realtà essendo totalmente legato al disegno quindi all'approccio figurativo all'approccio proprio del segno, della linea di un gesto morbido che dà vita a questa figurazione in bianco e nero incredibile è come se ci fosse uno sguardo da televisione anni 50 in Fausto che trasfigura la realtà in una specie di ombra in bianco e nero che però è la versione anche più ironica di certe realtà forti, dure legate appunto a immaginari filmici, cinematografici in senso allargato, musicali ma anche poi legate a tante citazioni che lui fa della pittura, dei grandi artisti, dei grandi movimenti del Novecento delle cose probabilmente banalmente amate nel quotidiano che lui riesce a mettere dentro in questa idea di famiglia allargata di strambi nuclei familiari dove vediamo appunto personaggi che possono ricordarci l'Ozzi Osborne della situazione o il chitarrista degli SDC o il Mick Jagger della situazione o il Kate Richards o il musicista da gruppi più alternativi tipo Sonic Youth, Joy Division e così via tutto quell'immaginario molto black, molto noir molto post-punk della musica che poi è diventato appunto l'immaginario di registi come Anton Corbin gente che secondo me ha poi molte filiazioni con questo mondo di Fausto che ripeto è davvero un pittore a tutti gli effetti e fa un lavoro da grande pittore a tutti gli effetti questi grandi spazi bianchi su tela vengono animati da queste forme nere che hanno quasi delle ascendenze maleviciane mi viene da pensare al quadrato nero di Maleric che prende forma su un bianco e diventa narrazione diventa figurazione mi viene da pensare a certi giochi futuristi a certi giochi dadaisti a certi lavori di ambito fluxus mi viene da pensare a certe cose più surrealiste portate su questo bianco-nero esasperato dove tutta questa dimensione onirica intercetta quel discorso dell'illustrazione del fumetto ma riesce davvero a metabolizzarlo e farlo proprio in un ambiente mentale unico e inimitabile come quello di Fausto Gilberti davvero un artista da seguire con cura e con grande attenzione il suo percorso espositivo anche importante ricordo mostre come quella al Caffè Florian durante una bianale di Venezia e mostre in musei mostre collettive tematiche italiane ma anche europee in spazi prestigiosi musei e fondazioni Fausto è un artista che ha un percorso molto calibrato e molto importante soprattutto ricordo la parte dei libri soprattutto quelli usciti per Coraini è un viaggio unico in una pittura che diventa libro in una pittura che riesce davvero a bilanciare l'aspetto del segno, del disegno della pittura e dell'oggetto quadro con un'armonia che è davvero unica da seguire, da scoprire perché Fausto Gilberti ha davvero portato quell'idea dell'illustrazione storica in un'autonomia della pittura che ci piace raccontare e ci piace seguire nelle sue crescite nelle sue punte sempre più intelligenti sempre più creative sempre più strabilianti